Una domanda che vorrei porre rispetto all'affidamento della concessione, non so, lo fatto che dice, avete in mente di fare il mando di presidenza a voi? Certo che sì, ma come fare a me? Certo che sì, ma come fare a me? Eh, no, lo chiedo alla sindaca infatti. Certo che sì, ma come fare a me? Eh, no, lo chiedo alla sindaca infatti. Che tipo di orientamento? Allora, noi dobbiamo riconvenzionare tutti gli spazi della città, tutti, sia che essi siano sportivi, sia che siano falsi contenitori culturali, per cui ci muoviamo a breve in questa direzione e ovviamente se ne occuperà un altro assessorato che è quello al patrimonio e alla proprietà, per cui il palco San Felice non sfugge a questa logica. Anzi, vi dico che evitando di questi anni, ma anche a danneggiare queste strutture, perché una candidatura per un PNRR, per un PON, per un fondo strutturale, con una convenzione che non ha la legittimazione temporale in corso, rende tutto più difficile. Nelle campagne di Ostuni, i campi vengono irrigati dall'acqua domestica purificata dall'impianto di acquedotto pugliese. Perché per noi sostenibilità non è una parola, è una pratica quotidiana.